Torna da giovedì 9 a sabato 11 settembre la Fiera del Messolo, l'appuntamento tradizionale di inizio settembre e lo fa nella sua location tradizionale, quindi la parte bassa del centro storico, che va da Sant'Agostino sino all'Arena Eden, passando per Via Spinello, Margaritone e Guadagnoli. Un ritorno in centro dunque inevitabilmente però con qualche novità. Cinque infatti saranno i varchi d'ingresso, tutti presidiati da polizia, municipale, volontari e personale di servizio, che si occuperà di controllare il green pass dei visitatori, il rispetto delle norme di sicurezza ed interverrà in caso di assembramenti. Dunque per accedere sarà obbligatorio mostrare la carta verde, indossare la mascherina e rispettare le distanze di sicurezza. Il numero degli espositori sarà lo stesso degli anni precedenti. Sulla pavimentazione stradale, specialmente nelle aree aperte come il parcheggio Eden, verrà apposta un'adeguata segnaletica stradale che indicherà ai visitatori il percorso obbligato da tenere all'interno della fiera.